Io non ho parlato di guerra civile perché non è questo il mio linguaggio, ho detto che si stanno creando le premesse per un disastro sociale, perché qui le persone che sono in difficoltà economica aumentano, persone che non arrivano eppure a metà mese, e allora se tu l'unica cintura di protezione la togli senza prevedere alternative, stai creando le premesse per un grave disastro sociale. Ovviamente il Movimento 5 Stelle ha sempre detto che era una riforma complessa che richiedeva del tempo per quanto riguarda soprattutto il miglioramento delle politiche attive, ma questo andava fatto con tutti insieme, ci stavamo lavorando e avremmo dovuto lavorarci. Però gettare questa riforma alle ortiche quanto in tutta Europa, addirittura c'è una raccomandazione e si sta lavorando per una direttiva sul reddito di cittadinanza europeo, è una follia. Peraltro un'altra delle contraddizioni di questo governo è che la ministra Calderone qualche giorno fa è stata in Europa e parlando di reddito di cittadinanza, loro lo chiamano minimo adeguato, si è detta favorevole per l'Italia. Quindi abbiamo la contraddizione e la contraddizione.